Ciao a tutti amici del toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami toro, tendenze energetiche affettive. Per la seconda metà di gennaio abbiamo due carte ragazzi. Il diavolo e il mondo. Oh che interessante, perché il diavolo parla di energia repressa o perlomeno io lo sento come se fosse qualche cosa o qualcuno che incastra, mentre il mondo è il completamento. Adesso qui queste carte sono giganti, non riuscite a vederle tutte, facciamo così. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e lo vedete anche scritto qui e trovate anche il link per le previsioni del 2024. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Vi ricordo che queste sono letture generali sugli affetti, quindi possono riguardare la famiglia, le relazioni di coppia piuttosto che le amicizie. Cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Allora ragazzi partiamo con la luna, un sette di denari, abbiamo il diavolo di nuovo, ah no scusate la morte, l'ho letto al contrario, è la morte. Dieci di spade, che giustamente è l'arcano minore della morte, sette di bastoni, quattro di denari, sette di coppia e regi spade. Allora diciamo che partendo con questa luna si può parlare di un momento dove probabilmente sentirete una certa tristezza, una certa malinconia magari per qualche situazione del passato o potrebbe essere un periodo dove ritornano a galla emozioni magari un po' dimenticate, un po' nascoste se vogliamo. Però ho anche la sensazione che qualcuno qui abbia il desiderio di terminare con una certa situazione perché qui abbiamo sia la morte che dieci di spade. È come se si volesse ma non si riuscisse o non si potesse. Va bene andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Allora la luna è spiegata da un re di spade e da un 5 di bastoni. Allora potrebbero essere delle discussioni, delle questioni egoiche, competitive, di risultato legate al passato. C'è comunque un re di spade che tra l'altro lo trovate anche qui. Quindi può riguardare una persona vicino a voi o potrebbe anche essere la vostra energia. Adesso lo andiamo a vedere man mano. Allora andiamo a vedere questo set di denari. Temperanza e 9 di bastoni. Che interessante perché 7 di denari di solito è una carta che parla di pazienza e anche qui abbiamo una temperanza che ha la stessa energia in questo senso. Però è come se non si fosse più disposti ad aspettare. Non si fosse più disposti a stare in stand by, in attesa. Tenete presente che qui avete anche un 9 di bastoni. Ok? Quindi 9 di bastoni è una di quelle carte che indica una certa stanchezza per il continuo stato di allerta. Ed è interessante perché la temperanza è una carta di guarigione. È come se ad un certo punto smetteste di, non so, di avere questi pensieri piuttosto che queste discussioni con voi stessi. È come se con questa temperanza si trovasse un certo equilibrio. Direi ok, non aspetto più, però per stare sereno o serena, per star tranquillo, devo comunque alzare le mie barriere, creare la mia zona di sicurezza, creare i miei limiti. Ragazzi, per qualcuno potrebbe essere utile controllare il colesterolo. Andiamo alla morte. Regina di coppe. 9 di coppe, 3 di coppe. Voglio andare a vedere anche questo 10 di spade. 9 di spade e mago. Dunque ragazzi, vi dirò, questa potrebbe essere sia una situazione familiare, sia di amicizie, sia romantica, perché ho un po' tutte le sfaccettature, però ripeto, ognuno di voi applichi la lettura alla propria realtà, ma ho come la sensazione che ci sia la voglia. Mi viene da dire. Allora, per qualcuno potrebbe essere la voglia di diventare madre, per qualcun altro la voglia di avere la propria mamma vicino e qui mi spiegherei la luna, per altri ho la sensazione che semplicemente si ha voglia di stare tranquilli, di stare sereni, di aprire il cuore, di avere questa sorpresa. Il 9 di coppe è una carta di sogno compiuto, è una carta di appagamento emotivo, quindi queste sono tutte coppe anche tra l'altro, quindi non lo so, l'idea che abbiate bisogno di essere un po' abbracciati in questo periodo. Potete farlo, potete farlo da soli, vi abbracciate da soli, non è la stessa cosa ma è qualcosa. È come se ci fossero dei pensieri legati al passato, nella prima parte della lettura, quindi nella terza settimana di gennaio, che vi mantengono un pochettino bloccati, è come la sensazione che non sappiate bene da che parte andare. Qui avete un 7 di bastoni e qui avete un 9 di bastoni. Vi sento molto sulla difensiva, ma qui diciamo siete sulla difensiva verso gli altri, nel mondo esterno. Qui difendete la vostra causa, difendete il vostro progetto. Andiamo a vederlo. Uh, gli amanti ragazzi, e la luna. È come se qualcuno stesse difendendo una situazione o una relazione. Allora, fate attenzione perché la luna ce l'avete due volte. E vista così, mi fa venire in mente la proiezione dell'amore, cioè quello che noi pensiamo essere amore o quello che noi abbiamo metabolizzato come amore, quindi la nostra idea soggettiva, che però ha delle proiezioni, quindi come se fosse un'idea che non è proprio pulita, non è reale, è alterata, è come se fosse distorta. Vi dico, la carta degli amanti fa riferimento anche a una scelta, molte volte. È una carta che indica la scelta per amore di se stessi, per amor proprio. Datemi una carta in più per questi amanti. Vi dico, qui ho come la sensazione che qualcuno stia difendendo un amore, una relazione. Sì, è che sia un po' un... Da cosa vi state difendendo? Datemi una carta per il 9 di basso, dalla morte, dalla fine della relazione. Io credo che qui, ragazzi, qualcuno stia... Perdonate quello che sto dicendo, però quello che sto per dire. Ovviamente non risuonerà per tutti, però ho come la sensazione che qualcuno qui non voglia accettare che bisogna comunque interrompere o la relazione o una situazione o una certa dinamica all'interno della relazione. C'è come una sorta di attaccamento a questo sogno, a questo desiderio, ok? Anche la luna è una carta che parla di sogni, però come vi dicevo prima è anche una carta che parla di proiezioni. Probabilmente qualcuno si è fatto una certa idea, ha paura di ritornare o che si ripresentino certe dinamiche del passato ed è un po' come il... Ok, faccio finta di non vedere per mantenere in piedi quello che ho raggiunto fino ad adesso. Però è come se, sì, diciamo, verso la fine di gennaio arrivasse un qualche cosa che vi, come vi posso dire, vi scuote, perché sono tre arcani maggiori. Cosa state difendendo? Anche perché, se ve la devo dire tutta, siete un po' da soli in questa lotta per magari mandare avanti la relazione o per mandare avanti la vostra idea di relazione. Ripeto, può essere qualsiasi relazione, ci sono anche delle volte dove sopravvalutiamo o sottovalutiamo anche i genitori. Vi dico così perché la regina di coppe molto spesso fa riferimento a una madre. Andiamo a vedere questo quattro di denari. La giustizia. 5 di spade, 4 di spade e 2 di bastoni. 4 di spade e temperanza. Sono due carte che a livello energetico parlano entrambe di una sorta di guarigione, ma qui con la giustizia al contrario c'è da rompere certi equilibri. Ragazzi avete giustizia e torre al contrario. C'è da interrompere certe dinamiche, ma soprattutto certi attaccamenti che possono essere ai sogni, alle idee, a certe amicizie. Può essere relativo a un parente, a un genitore, come vi dicevo prima, o anche al proprio partner. Vi dico, ha un po' tutte tra le valenze, secondo me, questa lettura. Può andare bene sia a livello familiare che a livello di coppia, che a livello di amicizia. Anche se quest'ultimo in realtà lo sento meno, ma è come se dovesse cadervi un mito qui. O dovesse fare una sorta di scelta. Cioè, è come il rompere un attaccamento a certe idee, a una confusione mentale. Il 5 di spade parla di lotte egoiche, ok? Qui c'è il bisogno di guardare al futuro, il bisogno di guardare avanti. E di fatti poi qui abbiamo un set di coppe, una serie di possibilità che si aprono. Ma, tenendo presente che avete due volte la luna, non tutte queste possibilità potranno essere effettivamente fruibili. Quindi, ho come l'idea che molte potrebbero essere illusioni. Ed è per quello che, secondo me, poi arriva anche il re di spade. Perché è quel re che vi aiuta a tagliare con i pensieri, con le illusioni. Andiamo a vedere il set di coppe. Ecco, set di coppe. Mi sento un po' presa in giro, sapete, quando per spiegare una carta mi ridanno la stessa carta. È come se non mi volessero rispondere. È matto. Ragazzi, è come se fosse un avvertimento. Non vi fidate... Non vi fidate... Non vi fidate di questo re di spade, mi viene da dire. Non vi fidate delle illusioni. Non vi fidate... Degli obiettivi materiali. Perché il set di coppe è una di quelle carte che parla di qualcuno che ha la testa fra le nuvole e che pensa al denaro, i soldi, al potere, alla fama, al successo. Ok, ragazzi. Andiamo a vedere quale potrebbe essere una credenza limitante che avete. Anche questa non risuonerà con tutti, ma magari può essere uno spunto di riflessione. Perché ho paura di non essere amato? Wow! È come se... Probabilmente queste lotte egoiche dei 2-5 che abbiamo qui parlano delle lotte interne Sapete il Sei abbastanza, non sei abbastanza, non meriti niente Cercate di ascoltare il vostro critico interno Quando vi sgridate, quanto vi sgridate, come vi sgridate, cosa vi dite? Andiamo a vedere anche ancora un oracolo per piacere Sì, e comunque sento che questo porta alla tossicità del diavolo, ragazzi Tenete presente che quando c'è il diavolo si parla anche di ego e qui abbiamo la caduta dell'ego Cioè, l'ego è quello che ci dice Se gli altri Se io faccio qualche cosa per gli altri Gli altri mi vedono, mi dicono Grazie, come farei senza di te O cose di questo genere Io mi sento amato Potremmo vederlo così E invece Semplicemente ognuno di noi ha diritto di essere amato Solo per il fatto di essere vivo Amato io intendo prima di tutto da Dio Poi le seconde persone che si devono amare siamo noi stessi Poi arrivano a tutto il resto Il problema qual è? Che quando si è bambini Si percepiscono certe dinamiche E le si interiorizzano Magari non proprio nel migliore dei modi Carta numero 40 Co-creare Allora, questa carta vi parla di quello che è la creazione a livello mentale A livello di manifestazione Ogni pensiero che noi facciamo È come se fosse un impulso Un comando che mandiamo all'universo Ok? Sta per realizzarsi questa verità Il mio pensiero è Non lo so Perderò il lavoro Quindi mando il primo messaggio via computer all'universo Secondo giorno rifaccio E a furia di mandare energia Si crea Si materializza Questa cosa Quindi siate molto Coscienti dei pensieri che fate Di nuovo Guardate il vostro critico interiore Di che cosa vi lamentate Va bene ragazzi Spero che comunque la lettura vi sia stata di ispirazione Che vi abbia dato insomma degli spunti di riflessione Fatemelo sapere con un like Con un commento Se avete piacere potete iscrivervi Condividere il video Abbonarvi al canale Io vi ringrazio di essere stati qui con me Vi mando un abbraccio Ci vediamo nei prossimi video Ciao 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 ciao